Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi anche su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso alquanto strano e controverso, e vi sto parlando del caso di Mario Biondo. Siamo a Madrid, ed è la sera del 29 maggio del 2013, siamo a casa di un bel giovanotto palermitano di 30 anni, più precisamente ci troviamo a Caille Magdalena. Sono circa le 11 di sera e Mario Biondo è in cucina, intento a prepararsi il caffè. A cosa pensa Mario quando sorseggia suo amato caffè? Purtroppo, ahimè, non ci è dato sapere nulla. Ciò che sappiamo con sicurezza è quello che hanno dichiarato le autorità spagnole, Ossia quest'uomo, dopo il caffè, non averve trovato nulla di meglio da fare che prendere un foulard, arrotolarlo a mo' di fune, attaccarne un capo ad una fragile scaffalatura metallica, con l'altro fare un nodo a scorsoio, un cappio, infilarci la testa e impiccarsi, nonostante i suoi piedi tocchino terra. Ma chi è Mario Biondo e perché chiunque l'abbia conosciuto stenta a credere che le cose possano essere andate in questo modo? Mario appartiene ad una normalissima famiglia della piccola borghesia palermitana. La madre lavora come commessa in una gioielleria nel centro della città e il padre fa l'operatore per alcune società di service televisivo. Mario è una persona solare, carismatica, tanti amici, e l'anima della festa è sempre positivo e ottimista, tanto da tenere alto il morale anche della sua famiglia. Mario difficilmente rifiuta l'aiuto a chi glielo chiede. È insomma quello che tutti definiscono un bravo ragazzo. E così che pian piano, inizialmente per l'emulazione del padre e poi per una vera passione, Mario inizia ad avvicinarsi alla fotografia, per poi riuscire a diventare un vero e proprio cameraman di buon livello. Mario è bravo, il lavoro gli piace, quindi lo fa con grande passione. Ed è proprio grazie alla sua serietà e bravura. Dopo qualche anno di lavoro al Magnolia, la casa di produzione proprietaria del format, lo chiama in Honduras per girare la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. In quei giorni, subito dopo i sopralluoghi per le riprese, arriva Raquel Sanchez Silva, avvenente conduttrice spagnola che sta costruendo la sua carriera televisiva con grande costanza e determinazione. Ebbene, tra Mario e la donna, scatta il colpo di fulmine. Raquel e Mario diventano inseparabili, la loro passione pare inarrestabile. Tanto che, quando lui termina il servizio tre giorni prima di lei, la bella conduttrice gli consegna le chiavi della sua casa a Madrid e dice di aspettare lì il suo ritorno in Spagna. Dopo un anno di convivenza, Mario e Raquel decidono di sposarsi il 22 giugno a Taormina. I due sposini sfilano per le vie del paese insieme a un'allegra combriccola di amici siciliani e spagnoli, tra balli e canti fino a tardanotte. Una volta finiti i festeggiamenti, però, ritorna la vita a due di Raquel e Mario, che partono per il viaggio di nozze. Prima vanno in Nepal, poi a Formentera e infine a New York. Poi i due innamorati tornano in Spagna e rincominciano a lavorare più di prima. Raquel continua la sua folgorante carriera in Mediaset Spagna, accortamente gestita dal suo manager, Guillermo Sansa. La donna diventa sempre di più un'icona del mondo televisivo e più in generale del jet set spagnolo. Mario, dal canto suo, non rimane certo a guardare Raquel diventare una stella senza far nulla. Quindi, oltre ad apparire al suo fianco, diventa anche uno dei cameraman di punta di MasterChef Spagna e si conquista la stima e l'affetto di tutti coloro che hanno la fortuna di lavorare con lui. Col tempo, i genitori di Mario sono un po' perplessi dalla scelta del figlio di vivere accanto ad una donna che pare dover impersonare una star 24 ore su 24, anche quando è in vacanza. Mario, però, non si stanca mai di rassicurare tutti. Dice che lei, in fondo, è un personaggio televisivo. È sulla cresta dell'onda e tutti questi atteggiamenti non sono altro che gli effetti collaterali del suo lavoro. Mamma Santino e papà Giuseppe accettano le spiegazioni del figlio perché si fidano e ricoprono di amore e di affetto la coppia di sposini. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni di Mario, i genitori sentono che ci sono delle note stonate nella loro vita di coppia, anche se non riescono a capire concretamente cosa ci sia che non vada. Mario è simpatico, è di compagnia, certo, ma è anche un uomo riservato. Nonostante in pubblico sia un compagnone, in privato si tiene tutto per sé, non racconta niente a nessuno. Ed è così che il tempo passa. E arriviamo ad aprile 2013. Apparentemente va tutto bene, Raquel passa da un successo all'altro, da una festa all'altra, ed è testimonial di importanti marchi internazionali. Mario invece sta portando avanti una stagione di Masterchef. Inoltre ha con Raquel in tasca un progetto condotto da lei e realizzato da lui, già approvato da Telesinco. L'uomo inoltre si fa anche spedire da Palermo la sua vecchia moto e comincia a rimetterla a posto per poter fare un viaggio con la moglie l'estate successiva. La verità è che Mario, nelle ultime settimane della sua vita, è inquieto. Litiga spesso con Raquel, anche se non rivela mai a nessuno il motivo. Inoltre, il jet set della capitale spagnola inizia a andargli realmente troppo stretto. I riflettori e le telecamere raramente si lasciano sfuggire un'uscita, una festa o un evento ai quali i due sono presenti. Anche se, c'è da ammetterlo, i riflettori sono più puntati su Raquel. Da quel che dice mamma Santina, Mario, nelle ultime settimane, avrebbe deciso di allontanarsi dalla moglie. Tant'è che avrebbe anche contattato un'agenzia immobiliare, di Madrid, per trovarsi un appartamento per conto suo. E pare che questa agenzia gli abbia fatto diverse proposte, tra le quali avrebbe dovuto scegliere. La verità però è che i due continuano a portare avanti la loro vita, sia privata che pubblica. Fino a quando non arriva quel terribile giorno, quel 29 maggio del 2013. Quel giorno Mario è da solo. Raquel gli dice che sarebbe andata a Plasencia, col fine di trovare sua madre e lo zio, che deve accompagnare in ospedale per un piccolo intervento. Quindi, Raquel, nel tardo pomeriggio, lascia Madrid. Mario trascorre una giornata come tante a lavoro negli studi di Masterchef, e nessuno nota nulla del suo comportamento, che possa anche solo far balenare il dubbio che di lì a poco si sarebbe consumata una tragedia simile. Mario rientra in casa intorno alle 20.30, poi trascorre del tempo in chat con sua sorella e suo fratello. Verso le 11.30 si dirige in cucina e si prepara un caffè. Mentre sorseggia quel caffè, Mario trascorre del tempo ancora al pc. Poi, come dichiarato dalla moglie, verso l'1.10 la contatta per mandarle l'ultimo affettuoso saluto. Raquel alla polizia dichiara che i due hanno avuto una piccola discussione il pomeriggio del 29 maggio riguardo la difficoltà di avere un figlio. Nella stessa situazione il marito le avrebbe accennato della sua paura di aver contratto una malattia, senza dirle però esattamente quale sia questa malattia. Cosa si è successo dopo quel contatto tra Raquel e Mario, non è possibile saperlo. Mario, quanto pare, ha continuato a navigare su internet per un po'. Poi, poco prima delle quattro avrebbe sistemato e pulito casa, si sarebbe messo un pigiama e non avendo trovato evidentemente nulla di meglio da fare, avrebbe pensato di prenderlo un foulard, arrotolarlo fino a farlo sembrare una fune, legarne un capo ad una leggerissima scaffalatura metallica presente in salotto, fare un odo scorsoio all'altra estremità o un cappio, passarsi il cappio intorno al collo e impiccarsi con i piedi che ancora toccano terra. Secondo quanto riportato dall'autopsia svolta in Spagna, il cuore di Mario ci sarebbe fermato intorno alle 4 del mattino, mentre secondo quanto riportato sul certificato di morte spagnolo, l'ora del decesso si sposta alle 6 del mattino. E infine, dalla perizia fatta dai carabinieri, il PC e lo smartphone di Mario sarebbero stati spenti alle 6 del mattino. Inutile dire che qui le cose... proprio non tornano. Fatto sta che Raquel, nella giornata del 30, dichiara di aver ricevuto una chiamata dagli studi di Masterchef per avvertirla che suo marito quel giorno non solo non si è presentato a lavoro, ma risulta anche irreperibile. Raquel, preoccupata, afferma di aver provato lei stessa a chiamare suo marito senza successo, tanto che a un certo punto sarebbe stata costretta a chiamare la domestica, ossia Vilma Grassiela, chi ha le chiavi di casa per pregarla di andare a vedere cosa sia successo. Sono circa le 5 del pomeriggio e Raquel sostiene di essere rimasta al telefono con la domestica, mentre quest'ultima è entrata in casa. Raquel sostiene di aver sentito la domestica, gridare e poi esclamare Il signorino Mario è appeso al salotto! Sempre secondo quanto dichiarato da Raquel, a questo punto chiude la chiamata con Vilma e chiama al 112, il numero nazionale d'emergenza spagnolo. Poi chiama anche il suo agente, Guillermo, chiedendogli di correre a casa sua per vedere cosa sia successo. Nel frattempo la domestica, morta di paura, corre via dall'appartamento in preda al panico, urlando. Infatti una volta scesa in strada, una pattuglia della polizia municipale nota la donna. I due poliziotti quindi ascoltano la storia di Vilma e poi entrano in casa di Mario e Raquel per accertarsi che la situazione raccontata dalla domestica sia reale. Verso le 17.40 arrivano i medici dell'ambulanza e i poliziotti del corpo di polizia nazionale spagnolo. Dopo un sommario sopra il luogo dell'appartamento, dichiarano che la casa si trova in ordine. Non vi sono apparenti segni di lotta. Non si rinviene nessun biglietto o messaggio che parli di suicidio né tantomeno farmaci o sostanze. Le finestre sono chiuse. La serratura della porta pare non essere stata forzata. La dottoressa del pronto soccorso medico riporta che Mario si trova impiccato alla libreria con un fular dal collo. Mario viene trovato freddo, senza segni vitali e con rigidità post mortem. Nonostante ciò gli operatori sanitari gli praticano un elettrocardiogramma che evidentemente risulta piatto. Tutto c'è Raquel che è presa nell'agitazione più totale chiede a suo cugino di riaccompagnarla di corsa a Madrid proprio per vedere cosa stia succedendo. Verso le 18.15 arriva al medico legale il tribunale di istruzione numero 21 che scriverà sul suo verbale tali parole. Mario Biondo si è impiccato allo scaffale della libreria con i piedi per terra e le gambe semiflesse indossa una maglietta rossa, pantaloni a quadri ed ha un segno da impiccamento da foulard con un nodo posteriore. Una volta svolte le operazioni di rito il defunto viene inviato all'istituto anatomico forense della capitale spagnola. Alle 18.30 giunge anche sul posto la polizia scientifica che fotografa la scena del crimine e interroga Vilma Grassiela la governante, ossia colei che ha visto il corpo di Mario per prima. A Madrid comincia a calare la notte sono le 20 ed ecco che arriva Raquel. Visto che sono ancora presenti i polizzati della scientifica la donna fa delle dichiarazioni alla polizia. Raquel afferma che quando aveva conosciuto Mario in Honduras egli fosse un consumatore abituale di Coca-Cola però i due volevano avere un figlio quindi da gennaio 2013 Mario si è rimposto di non farne più uso. Inoltre in quel periodo Mario sarebbe stato di umore incostante e tendenzialmente depresso. Poi però il 5 giugno Raquel si reca presso la brigata provinciale della polizia nazionale per rilasciare una dichiarazione spontanea nella quale riferisce che la vita con Mario era meravigliosa e con molti progetti in comune. Inizia così Raquel ad affermare con ragionevole certezza che la morte del marito sia stata causata da un incidente e non da un vero intento suicida. D'altronde suo marito è un uomo con grande vitalità al limite dello spericolato e mai le aveva parlato prima di suicidio però era soggetto a sminimenti abituali di cui ignorava le cause. Inoltre Raquel aggiunge che quando si è ritrovata a comunicare la notizia alla famiglia di Mario la sorella del marito le avrebbe confidato che lui e suo fratello da piccoli giocavano a stringersi il collo con le mani fino a svinire per poi rianimarsi. A quanto le risultava inoltre Mario avrebbe fatto uso per l'ultima volta di Coca-Cola non più di tre settimane prima. E infine Raquel conclude che le sembra molto strano il modo in cui si è suicidato suo marito in quanto vicino al suo corpo c'era uno sgabello che non ha utilizzato per sollevarsi così da facilitare la sua morte. Quindi Raquel verso le 18.30 chiama i biondo a Palermo per avvertirle di ciò che sta capitando. in casa biondo su mamma Santina papà Giuseppe e sui due fratelli di Mario Emanuela e Andrea si abbatte secco un dolore duro devastante che nessuna parola sarà mai in grado di descrivere. Il 4 giugno del 2013 i biondo arrivano a Madrid sono ricevuti da quattro amici della nuora che con due macchine vogliono accompagnarli in una villa predisposta per il loro arrivo dove avrebbero dovuto aspettare Raquel che in quel momento si trova presso l'istituto di medicina legale di Madrid e sta parlando con l'anatomo patologo. Mamma Santina si impunta e pretende di essere accompagnata anche lei all'istituto per poter dare l'ultimo saluto a Mario suo figlio e per parlare con il medico legale. Dopo qualche resistenza gli amici di Raquel cedono e accompagnano i biondo presso l'obitorio. La nuora è già fuori dal complesso ad attenderli e dopo tutti i saluti del caso accompagna tutta la famiglia in una saletta dell'istituto prima di presentarli all'anatomo patologo. Saluta accanto a sua madre Raquel le dice che Mario sicuramente si sarebbe suicidato perché in quei giorni aveva ritirato gli esiti delle analisi di fertilità dalle quali sarebbe risultato avere pochissimi spermatozoi. Per questo motivo dice Raquel Mario si è tolto la vita. A questo punto estere fatta dalle parole sentite Santina si mette in mezzo e fa notare alla nuora che anche ammesso che l'esame avesse dato quel risultato il fatto di avere pochi spermatozoi non le pareva un motivo tale da indurre un uomo di 30 anni pieno di vita e dal culmine della carriera togliersi la vita. Di lì a poco il medico legale riceve i biondo e contrariamente a quanto scritto sul verbale di autopsia che riporta l'ora della morte intorno alle 4 del mattino il dottore racconta i familiari che Mario sarebbe morto tra le 5 e mezza 6 del mattino. Prosegue poi affermando di aver trovato una sostanza cristallina di colore bianco nelle narici del cadavere ma di questa sostanza non si trova alcuna menzione né nel referto autoptico né in quello tossicologico. Il medico conclude dicendo che Mario sarebbe morto per asfissia meccanica. A questo punto Rachele ed i suoi amici accompagnano i biondo alla villa con l'impegno di portarli a Madrid nel pomeriggio per vedere il figlio nella camera ardente che sarebbe stata allestita da lì a poco. I biondo quindi arrivano alla villa poi la nuora si apparta con loro in camera da letto e gli fa ulteriori confidenze. Il punto è che queste confidenze smentiscono le sue stesse parole pronunciate appena due ore prima. Mario sicuramente non si è suicidato ma avendo fatto uso di Coca-Cola avrebbe utilizzato una sorta di autostrangolamento controllato per ritrovare la calma. Questa affermazione lascia assai dubbiosi familiari di Mario che mai avevano avuto il sentore non tanto nel consumo di Coca-Cola quanto di questo strano modo che avrebbe utilizzato per calmarsi. Il giorno seguente i biondo finalmente possono vedere il loro figlio Mario. Il corpo però è già stato ricomposto e vestito e si trova all'interno di una vara. Passata anche questa triste in convenza i siciliani si uniscono a Raquel per la serata e il giorno dopo. Raquel a questo punto afferma che una sua amica criminologa di cui non sappiamo il nome le avrebbe confermato l'ipotesi di morte accidentale addirittura questa volta nel corso di un particolare gioco piccantino che evidentemente comprendeva uno strangolamento controllato. Raquel sostiene che la sua tesi sarebbe ulteriormente suggellata dal fatto che sempre secondo la criminologa Mario quella sera avrebbe cercato su internet dei siti piccantini. Verso mezzanotte la sua vicina di casa sostiene di averlo sentito gemere ripetutamente. Infine Raquel sostiene di essere stata lei stessa a trovare dei fazzolettini in bagno nella pattumiera sporchi del massimo piacere di Mario. Quelli evidentemente sono dei fazzolettini che Mario ha usato per ripulirsi. A questo punto senza che la cosa presenti una minima connessione logica si sarebbe andata a impiccare in salone ma solo dopo essersi procurato piacere e ripulito. A me questo non sembra un ragionamento così lineare. Il 4 poi Santina chiede alla nuora di accompagnarla a vedere la casa dove viveva Mario ma deve insistere perché Raquel teme che sua suocera possa impressionarsi nel vedere il posto nel quale il figlio appena è venuto a mancare ha trascorso i suoi ultimi istanti di vita. Alla fine la vedova però cede dice agli italiani che li avrebbe fatti accompagnare perché lei non voleva assolutamente rivedere il luogo della tragedia. Poi però poco dopo Raquel cambia idea. Accompagna quindi gli italiani portandosi però dietro anche sua madre e la badante. Una volta arrivati a Kai e Magdalena ed entrati nell'appartamento Raquel si va a inginocchiare nel posto dove è stato ritrovato suo marito. Poi si ricompone un attimo e seguita da Santina va in bagno. Inginocchia quindi per rovistare nel cestino dei rifiuti tira fuori un pezzo di cartigenica e lo mostra la suocera dicendo che quello sarebbe stato uno dei pezzi di carta con la quale si sarebbe pulito Mario. Santina prende quel pezzo di cartigenica a sua volta e per quello che può constatare non trova tracce di qualcosa che possa assomigliare al massimo piacere di Mario. Lo fa notare a Raquel la quale da quel momento smetterà categoricamente di fare riferimenti alla cosa. Poi le due donne entrano in camera da letto e Raquel dice a Santina che avrebbe spedito i vestiti di Mario a Palermo. Lui sicuramente li avrebbe voluti lasciare a suo fratello Andrea. Mentre parla con Raquel però Santina si guarda intorno e si rende conto che tutto in quella camera da letto è in perfetto ordine. Così non può fare a meno di domandarle che fine abbiano fatto i vestiti che Mario si sarebbe tolto per poi indossare il pigiama toccarsi e impiccarsi. Raquel risponde alla suocera che aveva pregato Mario di farle trovare tutto in ordine al suo rientro. Ecco perché ha riposto i vestiti, le scarpe e quant'altro nel posto giusto. E le affermazioni della nuora lasciano sempre più sbalordita Santina la madre di Mario che però fa finta di niente e sta zitta si tiene il suo stupore per sé e segue Raquel che si dirige in salotto. Nella stanza c'è ancora il piccio di Mario la sua scrivania e la sua poltroncina. Così Santina come qualsiasi mamma che sta soffrendo per la morte del figlio si avvicina alla scrivania e comincia a passarci la mano sopra. Poi passa la poltroncina e infine la sua mano tocca alla tastiera del computer di suo figlio che si sposta e rivela sotto di essa la presenza di un foglio sul quale Mario aveva riportato un indirizzo web evidenziandolo con una cornice rettangolare. Santina mostra il biglietto alla nuora dicendone questa è la grafia di Mario ma prima che Santina possa leggere l'indirizzo web scritto su quel biglietto la nuora viene colpita da una scarica di paura e tensione. Infatti prima strappa via dalle mani di Santina il biglietto e poi comincia a pronunciare frasi sconnesse come come possono avere questo indirizzo? Quel sito l'ho chiuso cinque anni fa ma com'è possibile? Ma soprattutto Raquel ripete una cosa ossia non sono una puttana. Questa scena a limite dell'incredibile si svolge davanti a un'esterefatta famiglia biondo ma c'è anche la madre di Raquel presente. Comunque una volta finita la performance di Raquel tutti si apprestano a uscire dall'appartamento di Caia e Magdalena e si dividono temporaneamente. I siciliani vanno in albergo mentre Raquel si dirige alla banca del marito per sistemare alcune cose sui suoi conti almeno così dice. Quello stesso pomeriggio mentre sono in auto con Raquel la vedova tirà fuori un documento bancario con le transazioni effettuate da Mario quella maledetta notte addirittura poche ore prima di morire. Raquel è infuriata perché ha scoperto che Mario avrebbe fatto tre transazioni in un noto bordello al centro di Madrid e si preoccupa molto del fatto che se lo avessero saputo i giornali la notizia l'avrebbe fatta passare per cornuto davanti a tutta la Spagna continua poi dicendo che le transazioni effettuate in questo locale solo per uomini sono di 60 euro 60 euro e poi 100 euro chiaramente in tre scontrini diversi e visto il loro rispettivo importo Diceto non si trattava di prestazioni o prostitute si conclude quindi affermando che Mario si è andato lì solo per bere qualche cocktail e ad un controllo più accurato quelle ricevute sono di 30 euro 30 euro e 60 euro quella sera Raquel dice ai biondo che si sarebbero trovati tutti a casa di un'amica di Raquel per vedere l'ultima puntata di quell'edizione spagnola di Masterchef la cui sigla finale sarebbe stata dedicata interamente alla memoria di Mario dopodiché italiani e spagnoli avrebbero partecipato ad una festa organizzata per l'occasione dell'amica di Raquel giunti a casa dell'amica di Raquel quindi tutto va bene si mettono a guardare l'ultima puntata di Masterchef e dopo la sigla di coda dedicata interamente al cameraman italiano Santina la madre di Mario scoppia a piangere dalla commozione inoltre anche comprensibilmente sotto stress sul momento tutti tentano di consolarla ma appena inizia questa festa ecco che i biondo vengono isolati come se avessero la peste Emanuela poi la sorella di Mario si rende conto che quella non è un vero e proprio evento in memoria del fratello ma è una festa vera e propria a questo punto gli italiani totalmente a disagio chiamano in disparte la padrona di casa la ringraziano e le comunicano che sarebbero tornati in albergo chiedono anche a Raquel se in caso li voglia seguire ma lei dice che preferisce rimanere lì quindi Raquel dice che gli avrebbe fatto arrivare un taxi che gli avrebbe riaccompagnati in albergo uno degli invitati però si offre lui stesso di accompagnare biondo all'hotel e nel frattempo Emanuela la sorella di Mario ne approfitta si avvicina ad Heidi amica e vicina di casa di Raquel e Mario e le chiede se può parlarle un momento da sola le due donne quindi si spostano davanti al portone di casa e parlano un po' Heidi si dice convinta che il fratello fosse morto durante un gioco finito male perché lei verso mezzanotte lo avrebbe sentito gemere qui però occorre fermarsi un momento a riflettere innanzitutto bisognerebbe capire quali rumori la vicina di casa possa aver udito provenire dall'appartamento contiguo e da quale stanza potessero provenire prima di ogni altra cosa c'è da sottolineare che i due appartamenti derivano dalla divisione successiva di un appartamento più grande tuttavia c'è anche da sottolineare che il toccacciarsi maschile o femminile non è che sia un'attività che provoca chissà quale rumore e in tal caso ci sono altre due cose che meritano di essere sottolineate la prima è che i due appartamenti confinano in concomitanza del salone di Heidi e della camera da letto di Rachel e Mario quindi i rumori che ha sentito la vicina dovevano per forza provenire dalla camera da letto risulta il quanto inverosimile che l'uomo potesse far udire i suoi grugniti dal salone e in effetti nel verbale della polizia nazionale la donna dichiara che i rumori li ha sentiti provenire dalla stanza dalla camera da letto di Mario e Rachel a questo punto accantoniamo un attimo l'assurda tesi per la quale Mario si sarebbe toccato in camera ripulito in bagno e poi impicchiato in salotto pensiamo da quale altra attività umana potrebbero essere prodotti grugniti lamenti o mugugni la mia conclusione è che tali suoni sono perfettamente compatibili con uno strangolamento da parte di terzi si sa che strangolare una persona in ogni caso non è cosa da pochi minuti né semplice risulta quindi verosimile che i rumori sentiti da Heidi fossero dovuti alla morte di Mario causata da terzi il giorno seguente i biondo incontrano nuovamente la nuora anche per decidere cosa fare a proposito della sepoltura e del funerale di Mario Raquel dice subito ai parenti italiani che secondo lei sarebbe giusto che il marito torni in Sicilia andando avanti con la discussione Raquel chiede a Santina se preferisce che il figlio torni a casa intero oppure cremato considerando il fatto che a parte i costi più contenuti la cremazione sarebbe stata più semplice anche dal punto di vista medico legale e burocratico ovviamente Santina e Pippo rispondono che il loro figlio lo vogliono riavere in una bara e non in un barattolo Santina è ben conscia che il ritorno della salma intatta avrà costi e complicazioni burocratiche ben maggiori ma la nuora la tranquillizza le dice di non preoccuparsi avrebbe pensato tutto lei questo è ciò che dice Raquel per poi rimangiarsi tutto infatti dopo poco tempo inizia a lamentarsi che a causa delle ingenti spese per l'organizzazione del funerale del marito sarebbe stata costretta a vendersi tutto quello che apparteneva a Mario a titolo di parziale risarcimento Raquel si lamenta dei costi da lei sostenuti che continuano ad aumentare e parole sue chissà dove finiranno dopo la traslazione della salma di Mario a Palermo questi soldi al biondo non resta altro che far buon viso a cattivo gioco è così che mentre Raquel continua a sproloquiare e lamentarsi Pippo e Santina passano i fatti mettono mano sul loro conto corrente riuscendo a tirar fuori circa un migliaio di euro alla vita di quei soldi però Raquel cambia nuovamente atteggiamento e rifiuta l'offerta dei biondo affermando che se li avesse accettati e Mario fosse stato ancora in vita probabilmente parole sue le avrebbe sputato in faccia arriviamo al 5 giugno i biondo tornano a Palermo hanno giusto il tempo di rinfrescarsi e riorganizzarsi in quanto la sera da Madrid arrivano Raquel e il suo agente contrariamente a quanto si aspettano i parenti siciliani Raquel non va a dormire a casa della suocera che aveva preparato tutto per riceverla ma va a dormire con il suo agente dividendo la medesima stanza in un albergo le vicino il 6 giugno del 2013 ci sono i funerali di Mario arriviamo all'8 giugno sono passati un paio di giorni dal funerale di Mario e i biondo non hanno più sentito né Raquel né il suo agente Guilermo fino a quando i biondo non si vedono arrivare un'email in quell'email c'è una lista di prezzi a loro riservati per l'acquisto delle cose appartenute al figlio acquisto finalizzato al pagamento delle spese del funerale e del trasporto della salma in Italia come se tutto ciò non bastasse Santina poco tempo dopo viene a sapere dalla banca presso la quale il figlio teneva i suoi conti che Raquel aveva pagato circa 4000 euro di fatture legate al funerale del marito in pratica Mario si era pagato da solo la sua metà del funerale Raquel ha fatto intestare le fatture per i suddetti 4000 euro di servizi funebri direttamente a Mario e così la banca non ha avuto difficoltà a pagare i conti del deceduto dopo qualche giorno Andrea il fratello di Mario prova a mettersi in contatto con Raquel attraverso il telefono prova a chiamarla per chiederle come stia a rispondere però non è Raquel ma è un amico della donna il quale dice che Raquel sta bene sta passando un periodo di riposo presso lui e sua moglie proprio per riprendersi dal dolore degli ultimi periodi Andrea ribatte dice che gli fa piacere che Raquel stia cercando di stare meglio ma desidera parlare direttamente con lei perché le vuole chiedere una cortesia Andrea chiede a Raquel se può inserire anche la cana 70D di Mario quando spedirà a Palermo le sue cose in quanto avrebbe piacere a continuare ad usarla lui la risposta arriva il 9 giugno con una telefonata di Raquel Andrea ed Emanuela sono fuori mamma Santina è a letto con 40 di febbre e quindi a rispondere al telefono è Pippo Raquel è fuori di sé aggredisce verbalmente Pippo dicendogli che suo figlio Andrea è un capriccioso rompicoglioni considerando che le vuole pure chiedere la Canon di Mario e qui io vorrei sottolineare che la Canon la moto ed i PC sono stati acquistati da Mario Piondo molto prima del matrimonio e di conseguenza questi oggetti sarebbero spettati dietro semplice richiesta verbale ai parenti in ogni caso prima che Pippo possa dire qualcosa Raquel continua dicendo che lei doveva vendersi tutto ciò che possedeva il marito per potersi ripagare gli ingenti costi del funerale e della traslazione della salma mantenendo in qualche modo la calma mi chiedo io come Pippo prende la palla al balzo e le dice che se proprio deve vendere le cose appartenute al suo figlio le avrebbe acquistate lui stesso pagandola aggiungi anche di fargli sapere al più presto quanto sarebbe stato l'importo del tutto con un'aggressività davvero immotivata Raquel fa notare al suocero che ci sarebbero voluti ad occhio e croce 10.000 euro per comprare tutto quanto e dubita che lui disponga di tutti questi soldi la telefonata si conclude con Pippo attonito raggelato invita Raquel a inviargli il conto e a non preoccuparsi troppo dei soldi qualche giorno più tardi arriva ad Andrea da parte dell'avvocato di Raquel l'elenco prezzato di tutte le cose appartenute al fratello per una montare totale di 11.000 euro circa Raquel dice che in quel momento non può accedere il computer di Mario perché è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria spagnola per provare la tesi dell'incidente durante questo fantomatico gioco al quale si sarebbe dato Mario prima di morire disgustato da questo comportamento da parte di Raquel Andrea posta un commento sulla sua pagina Facebook dove scrive che per riavere le cose appartenute a suo fratello la vedova pretende che paghi fortunatamente quel posto viene notato e ripreso da un giornale spagnolo che ribatte la notizia dicendo che Raquel è la presentatrice più ieta della Spagna perché ha chiesto dei soldi al familiare del defunto per riavere i suoi effetti personali colpita sulla sua immagine mediatica Raquel immediatamente cambia comportamento annunciando pubblicamente che avrebbe rinunciato all'eredita del marito così facendo i biondo avrebbero potuto riavere indietro gratuitamente qualunque effetto personale appartenuto al loro figlio contemporaneamente all'articolo arriva anche una lettera dall'avvocato di Raquel ai biondo dove comunica nuovamente la rinuncia alla sua eredità le modalità con le quali i biondo possono recarsi in Spagna per recuperare gli effetti personali del figlio quando i familiari si recano a Madrid per recuperare le cose appartenute a Mario si rendono conto che ci sono tante cose che mancano ad esempio tutto il guardaroba che Mario ha acquistato in Spagna non c'è più non c'è più la playstation i due schermi ad alta risoluzione che Mario utilizzava per lavorare collegandoli al pc e innumerevoli altri oggetti personali di piccole dimensioni è ovvio che questi oggetti e di il guardaroba sono stati venduti proprio da Raquel così i giorni passano e i dubbi e le incongruenze non smettono di attanagliare la famiglia biondo pian piano tutte le sconclusionate affermazioni di Raquel riguardo alla morte di Mario cominciano ad essere messe in fila e apparire per ciò che sono delle menzogne ora andiamo ad analizzare le affermazioni della vedova biondo e vediamo di mettere in luce ciò che a me non convince proprio prima affermazione Mario è uno che fa uso di coca cola ora io non posso escludere che Mario biondo non abbia mai fatto uso di questa sostanza però c'è da considerare che Mario è ben lontano dall'essere dipendente tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Mario in ambito professionale amicale e parentale lo descrivono come un ragazzo solare affabile sempre pronto allo scherzo ma per chiarire meglio questo punto dobbiamo prendere in considerazione l'analisi tossicologica svolta dall'anatomo patologo di Madrid comincio col dire che costui prende in considerazione per le analisi solo sangue e urine tralasciando succhi gastrici e capelli che avrebbero sicuramente aiutato a formare un quadro tossicologico più completo e con una finestra temporale molto più ampia inoltre le successive analisi autoptiche e procedurali svolte in Italia dai dottori procaccianti Milone e Yuvara hanno evidenziato mancanze anomalie e vere e proprie menzogne nell'esecuzione degli esami autoptici spagnoli ma andiamo per gradi il referto spagnolo circa l'esame del sangue evidenzia che sono state trovate due sostanze l'alcol e la coca cola e per una persona dell'età e delle caratteristiche fisiche di Mario quella quantità di alcol nel sangue equivale al consumo di circa due lattine di birra bassa fermentazione sono presenti anche tracce di coca cola ma sono davvero basse ora passiamo ai risultati dell'esame dell'urina in questi risultati solo l'alcol etilico è quantificato mentre per la coca cola è riportata solo la positività questa già di per sé è un'anomalia importante perché le procedure e la tecnologia usate universalmente per questo tipo di analisi sono perfettamente in grado di quantificare la presenza delle sostanze ricercate nei campioni analizzati e poi c'è il mistero abbastanza inquietante della provenienza di quel campione di urina perché dovete sapere che quando il professor Procaccianti esegue la seconda autopsia sul corpo di Mario la vescica viene ritrovata non solo integra ma anche piena come integra e senza lesioni sono le relative mucose e allora come evidenzia giustamente il professor Yuvara nella sua relazione da dove è stato prelevato il campione analizzato in che modo è stato prelevato inoltre buon senso procedure medico-legali vorrebbero fosse eseguita anche un'analisi della matrice dei capelli in quanto questa analisi permette di stabilire con sicurezza se i capelli sono sufficientemente lunghi quando il soggetto ha assunto qualsiasi sostanza per l'ultima volta ebbene questo esame non è stato svolto in Spagna ma in Italia dal professor Procaccianti che ha riscontrato una piccolissima quantità di Coca-Cola data quindi la lunghezza dei capelli del soggetto è possibile affermare con buona certezza che Mario non facessi uso di Coca-Cola da almeno un anno è dunque assolutamente falso affermare che l'uomo fosse un consumatore abituale della sostanza non è vero e allora a questo punto eccoci ad un'altra domanda senza risposta perché la moglie ha tutta questa premura di dichiarare alla polizia che il marito appena venuto a mancare abbia avuto in passato problemi con la Coca-Cola ma continuiamo con quest'altra affermazione di Raquel l'ultima volta che Mario ha fatto uso di Coca-Cola è stato circa tre settimane prima della sua morte anche questa affermazione risulta essere una balla falsa un'altra affermazione di Raquel la morte di Mario sarebbe da imputare ad un incidente quella dell'incidente è l'affermazione fatta più volte da Raquel sia agli inquirenti che ai biondo inizialmente si era parlato di una tecnica di strangolamento controllato ma la cosa risulta così strana e assurda che anche i biondo le avevano espressi i loro dubbi quindi Raquel cosa fa? cambia versione uscendosene fuori col gioco piccantino finito male ma pensiamo un attimo a questo gioco perché il cadavere non è stato ritrovato con le parti intime esposte se è venuto a mancare così santo cielo invece no Mario era vestito con un pigiama altra affermazione di Raquel abbastanza assurda mio marito soffriva di svenimenti improvvisi questa è una dichiarazione che lascia stare fatti parenti e amici di Mario che mai avevano avuto notizia di un simile disturbo da Mario inoltre riguardo questa patologia non c'è nessun riscontro documentale medico e ora parliamone uno svenimento improvviso è una cosa che può capitare il classico colpo di calore insomma magari è capitato una volta a tutti nella vita di svenire la cosa invece è diversa se questi svenimenti sono frequenti e senza causa apparente è molto molto grave questa cosa pensateci un attimo a che conseguenze potrebbero avere se capitassero mentre ad esempio ci si trova alla guida lo stesso Mario si sarebbe dovuto addormentare a lavoro mentre era dietro alla telecamera di certo la situazione non sarebbe passata inosservata e invece indovinate un po' di questa cosa non se ne ha notizia nessuno la sa passiamo ora ad un'altra affermazione di Raquel Mario e suo fratello da piccoli giocavano a strangolarsi fino a quando uno dei due non sveniva e poi si riprendeva questa rivelazione secondo quanto detto da Raquel gliela avrebbe fatta Emanuela la sorella di Mario il punto è che il fatto è falso il 15 ottobre del 2013 sul settimanale spagnolo Vanitatis fa una ricostruzione dei fatti e andiamola allora a vedere questa ricostruzione dei fatti il 29 maggio del 2013 alle 19 circa Mario e Raquel hanno una piccola discussione mentre ancora si trovano in casa alle 20 e 30 marito e moglie scendono insieme in garage si salutano e Raquel parte per Palasencia appena Raquel parte Mario fa tre chiamate consecutiva allo stesso numero e quello potrebbe essere un numero di un corriere che dà in giro Coca Cola alle 21 Mario rimane qualche minuto collegato su Facebook a parlare con sua sorella Emanuela alle 22 circa Mario esce di casa per andare in un bancomat vicino e prelevare 110 euro di questo denaro non se ne trova più traccia quindi tale somma deve essere per forza stata spesa nella notte tra il 29 e il 30 maggio alle ore 22 e 30 la vicina di casa Heidi incontra sul pianerotolo Mario che rincasa totalmente sovrapensiero alle 23 circa Mario chiama Raquel sul suo cellulare alle 23 45 i due cominciano una conversazione su Whatsapp arriviamo a mezzanotte 06 quando Mario chiacchiera su Facebook con suo fratello Andrea all'1.08 Mario chatta di nuovo su Whatsapp con sua moglie e poi prosegue fino alle 2 a compiere ricerche su internet guarda diversi siti piccantini fino a quando non arriviamo alle 2 alle 2 Mario trova su Google Maps l'indirizzo esatto di un locale solo per adulti in centro a Madrid e si precipita proprio in quel locale con la sua carta di credito paga 3 consumazioni di super al codici l'ultima alle 2.53 fino alle 5.59 non si sa l'ora esatta in cui Mario è tornato a casa quello che sappiamo per certo è che alle 5.59 Mario si connette su Whatsapp per l'ultima volta ma non lo usa lo consulta e basta arriviamo alle 6 del mattino ora in cui il medico legale fa risalire la sua morte ma andiamo per gradi e vediamo come i riscontri scientifico analitici svolti dai carabinieri sui dispositivi di Mario raccontino la sua ultima notte ma soprattutto vediamo come questi stessi dati gettino una luce sinistra sulla cronologia presentata da Vanitatis da quanto evidenziato dalla perizia dei carabinieri si vede che dalle 20.30 del 29 maggio 2013 il pc di Mario è acceso e funzionante con questo pc Mario fa quello che potrebbe fare chiunque di noi fa delle ricerche su internet ascolta musica su Spotify guarda video di ogni genere consulta la sua email e cerca anche un regalo da fare a sua moglie inoltre si informa anche su una malattia chiamata oligosfermia ossia il disturbo che gli avrebbe impedito fino ad allora ad avere un figlio con Raquel Mario utilizza anche facebook ma o lui o qualcun altro cancella la ricerca dalla cronologia l'utilizzo del pc appare continuo e in particolare risulta che tra le 21.59 e le 22.17 l'uomo abbia compiuto numerose ricerche su internet che ovviamente richiedevano che lui fosse presente alla tastiera e già qui salterebbe l'indicazione del suo presunto prelievo al banco mat di 110 euro allo stesso modo il mac di Mario è acceso e funzionante fino alle 5.41 di mattina e su di esso vengono eseguite continue ricerche se prendiamo per buone le indicazioni della presunta ora della morte fornite dalle autorità spagnole sul certificato di morte e sul rapporto dell'autopsia ci troveremmo di fronte ad un primo e inquietante dilemma come ricorderete l'ora della morte è fissata una volta intorno alle 4 del mattino e una volta intorno alle 6 del mattino del 30 maggio 2013 dalla relazione dei carabinieri sappiamo che il mac è rimasto in funzione ed utilizzato attivamente fino alle 5.41 del 30 maggio inoltre l'ultimo accesso su whatsapp dal telefono di Mario è stato alle ore 5.59 quindi questo povero ragazzo quando diavolo è venuto a mancare se Mario fosse davvero venuto a mancare intorno alle 4 chi c'era davanti a quel mac chi stava compiendo le ricerche su internet chi ha spento la macchina un'ora abbondante dopo la sua morte e infine chi ha controllato l'account di Mario di whatsapp alle 5.59 queste sono domande non da poco se invece Mario fosse morto intorno alle 6 avrebbe avuto tutto il tempo di usare il mac spegnerlo alle 5.41 spegnere anche il telefono alle 5.59 per poi trovare la morte sapete qual è il problema è che non ci sono elementi sufficienti per stabilire con esattezza l'orario della morte di Mario per di più le indagini non aiutano un granché a capire dove sia la verità perché la polizia non congela la scena del crimine non compie alcun rilevamento di impronte o di alcune tracce imputabili a persone terze eventualmente presenti non mette i sigili alla porta dell'appartamento ma ora passiamo invece agli interrogatori svolti davanti ai jeep italiani ve lo dico appaiono molto vaghi generici se non addirittura reticenti e soprattutto sembrano atti a non creare troppi problemi di immagine a Raquel infatti le indagini in Spagna vengono ufficialmente chiuse e concluse con una richiesta di archiviazione il 16 luglio del 2013 ossia neanche due mesi dopo la dipartita di Mario in Spagna il caso è chiuso come suicidio nei risvolti delle indagini compiute sulla vita della coppia hanno cominciato man mano che si procede a saltar fuori continui riferimenti alla gelosia che Mario poteva aver avuto nella vita prematrimoniale di sua moglie Raquel incominciamo col dire che Mario dubbi sul comportamento di Raquel del suo entourage ne aveva sempre nutriti fin dai tempi dell'idiglio in Honduras poi Mario fa una cosa che in linea di principio non si dovrebbe fare ma ci dà una mano a capire cosa succedesse realmente tra i due infatti nel 2012 Raquel compra per sé una nuova versione di iPhone e iPad e regala i suoi vecchi dispositivi elettronici a Mario il quale mosso dalla curiosità di capire meglio cosa combinasse sua moglie e oggettivamente anche dalla sua gelosia fa la copia del backup di tutto il contenuto dell'iPhone e dell'iPad la lettura di tutto questo materiale dipinge un quadro della vita a due della coppia tutt'altro che idilliaca i due infatti litigavano sempre sia per la gelosia che Mario aveva nei confronti di sua moglie sia per il disappunto che l'uomo aveva per gli strascichi delle vecchie relazioni di Raquel che sembravano proprio non riuscire a terminare definitivamente e infine erano davvero presenti problemi di sostanze e di alcol nella coppia noi lo sappiamo se Mario in Honduras sia arrivato pieno di Coca-Cola fin sopra i capelli ma abbiamo una sicurezza a Palermo il professor procaccianti conclude da un esame di matrice capillare che Mario non avrebbe più dovuto assumere né Coca-Cola né altre sostanze da almeno un anno fatto sta che la vedo va biondo davanti ai magistrati italiani che la interrogano come persona a conoscenza dei fatti ha un atteggiamento arrogante e preoccupato unicamente a limitare il più possibile i danni alla sua immagine pubblica questa preoccupazione assume spesso toni grotteschi e maniacali tanto da indurre i due jeep a ripeterle che trattandosi di un'indagine di omicidio a loro della sua immagine non frega un bel niente quando le domande dei jeep si fanno più serrate o dirette la donna non risponde mai accampando ragioni a scuse assai discutibili e davvero poco probabili in particolare dei messaggi che Raquel e Mario si scambiano e quelli che la donna scambia con il suo entourage emerge che la vita coniugale sia tutt'altro che tranquilla ma quando i magistrati glielo domandano Raquel risponde avevamo una buona relazione eravamo sposati da un anno di fatto vivevamo un momento felice della nostra vita sia professionalmente che personalmente e stavamo tentando di avere un bambino i due jeep insistono e chiedono a Raquel come andassero le cose nel loro matrimonio e lei continua a dire che era tutto un idillio peccato sia smentita da numerosi sms e messaggi in chat che raccontano una realtà totalmente diversa il jeep Ferrara poi passa a chiedere alla donna se lei e il marito avessero mai fatto uso di sostanze in particolare il marito Raquel pare cadere dal pero affermando io non ho mai visto Mario consumare alcun tipo di sostanza il jeep Ferrara è stupito dall'affermazione di Raquel le ricorda quindi le sue dichiarazioni rese alla polizia e anche in questo caso Raquel casca dal pero e chiede al magistrato quando avrebbe rilasciato queste dichiarazioni perché lei mica se lo ricorda a questo punto senza perdersi d'animo il jeep Calogero Ferrara le ricorda il momento e le dice signorina era il 30 maggio del 2013 ed erano le 22.15 l'uomo arriva addirittura a leggere le dichiarazioni in spagnolo che Raquel aveva rilasciato come se nulla fosse Raquel risponde che lei non aveva fatto altro che dire agli investigatori quello che aveva sentito dire in Honduras ma quelle erano solo voci lei e il marito insomma conducevano un'esistenza tranquilla il jeep allora prova a cambiare discorso attaccandosi all'ultima affermazione della donna circa la maternità desiderata c'erano problemi a riguardo Raquel risponde che nonostante tanti tentativi lei non riusciva a rimanere incinta così si era sottoposta degli esami di fertilità che sarebbero risultati a posto anche Mario li avrebbe fatti successivamente e in effetti il suo risponso sarebbe stato quello di una zospermia severa in pratica è presente una scarsa o assente riproduzione di spermatozoi a questo punto il jeep Ferrara torna di nuovo a bomba sull'abuso della coca cola e chiede ma questi problemi per possibile riproduzione potevano essere collegati al consumo di coca cola è possibile che voi abbiate avuto questa discussione per quel consumo della sostanza che avrebbe potuto portare a questi problemi di infertilità rachel risponde per prima cosa io non ho mai visto Mario consumare nessuna sostanza e non so se le due cose possono essere relazionate ah no il medico ci disse che poteva essere stata causata da una malattia che aveva avuto da piccolo il jeep Ferrara a questo punto continua e dice sempre alla polizia lei il 5 giugno 2013 dichiara espressamente che Mario aveva consumato sostanza tre settimane prima della morte quindi com'è che dice che non l'ha mai visto consumare la sostanza mi scusi rachel risponde ma mio marito consumava la sostanza almeno era quello che dicevano in honduras è vero che qui poteva aver avuto dei comportamenti un po' nervosi non lo so magari quando ho parlato con la polizia avrei potuto dire che tre settimane prima era uscito di notte non ricordo ma non ricordo neanche di aver fatto esplicitamente riferimento al consumo della sostanza a questo punto il jeep comunica a rachel che gli investigatori italiani hanno svolto delle perizie informatiche sui computer e sul telefono di mario dalle quali emerge tramite messaggi sms o ancora chat che i due facevano spesso riferimento all'uso della sostanza rachel quindi a questo punto si gira verso giudice spagnolo e gli dice giudice non capisco molto bene il perché di tutto questo di che si sta discutendo sulle abitudini di mario il giudice spagnolo risponde a rachel no quello che le stanno chiedendo riguarda quello che sta dicendo ora in relazione a quello che ha detto in una conversazione passata o quella dichiarazione rachel continua e dice non capisco una cosa è cercare e comprendere tutti i dati per aiutare altra cosa è che una persona giovane muore in circostanze così tragiche dobbiamo anche sopportare perché tutti sappiamo bene che queste cose trapeano e lo stiamo vedendo dalla televisione italiana e in tutte le altre parti io non voglio e non desidero che mio marito che è la mia famiglia sia conosciuto come un uomo schiavo della dipendenza perché devo partecipare a tutto ciò a questo punto il Gip Ferrara le risponde ben bene e le dice siccome lei parla in italiano glielo spiego in italiano tutti i problemi di immagine a noi non interessano noi qui dobbiamo accertare se una persona è stata uccisa oppure se si è suicidata quindi come prima cosa dobbiamo trovare un possibile movente uno dei moventi potrebbe essere proprio il consumo della sostanza quindi noi l'indagine la dobbiamo fare su tutto francamente poi di quanto si dice alla televisione italiana a noi non interessa nulla in televisione ognuno può dire quel cavolo che gli pare pur di non rispondere alla domanda del procuratore Raquel si lancia in un'assurda prosopopea sul fatto che domande come quella possono rovinare l'immagine del marito defunto e soprattutto si scaglia contro i media italiani che stanno facendo tutti un gran parlare sulla strana morte di Mario più volte il jeep ferrara e il giudice spagnolo presente all'interrogatorio tentano di riportare il discorso sul seminato ma la donna trova sempre il modo di evitare una risposta precisa fin quando il jeep ferrara non cambia marcia e rinfaccia la donna di essere una bugiarda di non dire la verità che tutti i messaggi elettronici in possesso della procura la smentiscono su tutta la linea quindi il jeep ferrara dice a Raquel si signora però tutto quello che dice lei non è vero perché le ho già detto che c'è questa perizia informatica dove ci sono dei messaggi tra lei e suo marito sono decine e decine di messaggi in cui lei lo rimprovera espressamente perché consuma sostanze e alcol il giudice spagnolo guarda Raquel e quindi le chiede esisteva questo conflitto o no? la domanda principale del procuratore è se esisteva tra di voi un conflitto riguardo il tema del consumo di sostanza questo è quello che le chiede vuole sapere questo? Raquel risponde dicendo si io lo so quello che mi state chiedendo il giudice spagnolo quindi chiede a Raquel esisteva questo conflitto o no? per intenderci era arrabbiata per questo? Raquel risponde mi state chiedendo di un messaggio su whatsapp? il jeep ferrara risponde si stiamo parlando di un messaggio su whatsapp Raquel di nuovo cade dal pero e chiede e come mai l'avete? il giudice spagnolo risponde beh tramite il telefono del defunto Raquel ancora pare non capire e dice tutta voce tramite il telefono del defunto a questo punto il procuratore ferrara ricorda la vedova biondo che sarebbe ora di smetterla con questi giochetti e dire la verità perché le evidenze delle analisi del contenuto del computer dell'iPad e dell'iPhone la smentiscono su tutta la linea il giudice spagnolo riprende in mano la situazione e chiede a Raquel se si ricorda di questi messaggi Raquel però dice che no non se ne ricorda di fatto Raquel evita in ogni modo di rispondere alle domande del jeep italiano ripete piuttosto la stessa cosa ossia io e Mario eravamo felici non l'ho mai visto assumere nessuna sostanza volevamo un bambino e si qualche volta era nervoso ma lui diceva che aveva bevuto Raquel ripete queste informazioni all'infinito fino allo spinimento a questo punto il jeep ferrara chiede a Raquel senta dopo che Mario è morto lei ha chiesto ad una sua amica di consultare le telefonate che aveva fatto e ha trovato delle telefonate che Mario aveva fatto ad un corriere della zona Raquel risponde ma il giorno della morte di Mario il jeep ferrara annuisce e quindi Raquel continua Mario fece diverse telefonate quando sono uscita dal garage per partire ma questo l'ho saputo dopo perché erano indicate sul suo telefono c'erano diverse telefonate ripetute ad un numero di telefono con un nome ma io non potevo sapere chi fosse quest'uomo io ho iniziato a parlare con le mie amiche per capire chi fosse qualcuno in quei giorni mi ha detto che quello era il numero di un corriere se jeep ferrara a questo punto dice ma se lei ha detto che Mario non faceva uso di sostanze come è possibile che la notte della morte chiama uno che le vende queste sostanze rachel rachel ho detto ho detto solo che io non era conoscenza di questo le conversazioni con mio marito riguardavano piani per il futuro il lavoro il bambino questa era la nostra vita ogni volta che il procuratore della repubblica pone le sue domande sulle sostanze rachel tira fuori la filastrocca della coppia felice che vuole avere un bambino quando i jeep cercano di capire un po' meglio rispetto a queste telefonate rachel smette di rispondere e non c'è neanche da stupirsi visto che le chiamate a questo presunto corriere sui tabulati del telefono di mario non esistono a questo punto i jeep cambiano l'oggetto delle loro domande chiedendo alla vedova delucidazioni rispetto alla presunta gelosia di mario soprattutto sulle sue ossessive ricerche in rete di video piccantelli della moglie le ricerche come dice il jeep ferrara sono decine di pagine affiancono al nome della moglie epiteti molto pesanti e allusivi il jeep camilleri prosegue facendo notare a rachel che le ricerche di mario non riguardavano solo un video piccantello in cui lei era protagonista ma anche eventuali prove di sue relazioni extracognugali in pratica mario pensava che rachel lo stesse tradendo data la mole di dati il jeep chiede ripetutamente a rachel se lei e suo marito avessero mai parlato di questi suoi dubbi o se lei fosse stata a conoscenza dell'esistenza di queste ricerche rachel continua con la sua linea di condotta e ripete fino allo sfinimento che lei e mario andavano d'accordo che la loro era una vita felice piena di progetti i giudici però insistono perché le risultanze informatiche sono così tante che non riescono a capacitarsi di come la donna che alla fine conviveva con mario dal 2010 non se ne potesse essere mai accorta rachel risponde che probabilmente suo marito aveva una doppia vita così si conclude l'interrogatorio con rachel e ora tocca a sua gente guillermo sansa essere interrogato l'uomo come già vi ho detto è il manager di rachel ed è un test importante perché a quanto pare è l'unico degli amici della vedova ad essere entrato in casa quando la polizia non aveva ancora fatto rimuovere il cadavere di mario la sua testimonianza quindi per l'accertamento della verità potrebbe risultare importante quindi guillermo sostiene di essere entrato in casa e di aver visto il corpo di mario che però era già totalmente coperto guillermo sostiene di non aver visto nulla di particolare e addirittura la libreria sostiene fosse normale questa informazione è importante perché la libreria di mario era una libreria dell'ikea che ospitava libri e piccoli oggetti quindi anche leggeri e instabili e quindi se mario si è impiccato a quella libreria appare strano che non sia accaduto assolutamente nulla a questo punto il jeep camilleri chiede a guillermo senta ma risulta se mario facesse uso di sostanze guillermo chiede prima o poi il jeep risponde ma tutte e due guillermo a questo punto risponde adesso sì e lo so per molti motivi sono state rese note le analisi del medico forense poi rachel lo sapeva e mi ha raccontato che in honduras lui gli aveva raccontato che la consumava perché io conosco molta gente in quest'ambiente lavorativo che dopo la morte di mario me l'ha confermato per carità a me mario dava l'immagine di un buon marito di uno sportivo eccetera faceva immersioni con me io ho una moto e anche lui mai mi diede la sensazione di nascondere qualcosa di strano a questo punto il jeep ferrara chiede a guillermo dove si trovasse rachel mentre mario trovava la morte il manager risponde che a quanto ne sa rachel sarebbe dovuta trovare a plasencia dallo zio per motivi familiari l'interrogatorio così si conclude anche per il manager di rachel ed ora tocca vilma grassiela la governante di rachel e mario vilma racconta che quel giorno era un giovedì e lei era di riposo però rachel l'ha chiamata per chiederle di andare a vedere se mario era a casa e stava bene in quanto non si era presentato a lavoro quando grassiele è saluta in casa ha potuto vedere ahimè il povero mario impiccato alla mensola della sua libreria con un foulard vilma racconta che mario indossa un pigiama con maniche lunghe e pantaloni lunghi e anche lei sostiene che la libreria era in perfetto ordine ma ora passiamo alle perizie medico-legali e iniziamo anche a metterci le mani nei capelli tutte e due in questo modo l'autopsia di madrid è stata eseguita dal dottor albenza rojo ossia il medico legale di turno all'istituto di medicina di madrid poco dopo la traslazione della salma stessa in realtà sia le norme di procedura spagnole che quelle internazionali avrebbero voluto che l'autopsia si fosse svolta solo dopo che la famiglia del defunto avesse potuto rendergli l'ultimo saluto e così non è andata il dottore spagnolo non si preoccupa di fare un attack o anche solo una lastra rx della testa di mario l'attack poi ha proprio potuto scoprire omissioni e manomissioni vere e proprie che sono contenute nel referto autoptico spagnolo le più significative sono queste nelle narici di mario viene trovata una sostanza cristallina e bianca che però non viene analizzata l'ora della morte viene stabilita per le 4 del mattino del 30 maggio senza che nessuno abbia rilevato la temperatura dermica ed epatica il dottore abenzaro afferma che lo stomaco di mario è stato aperto e trovato vuoto dato che confermerebbe la sua morte per le 4 in realtà però qui c'è qualcosa che non va perché c'è la successiva autopsia palermitana che non solo ha trovato lo stomaco integro ma anche con all'interno carne e cibo non digerito questa situazione è esposta all'ora della morte a ben prima delle 4 del mattino il certificato ufficiale della morte non si sa per quale motivo riporta addirittura come ora del decesso le 6 del mattino del 30 maggio le urine di mario sembrerebbero positive alla coca cola ma qui in questo caso addirittura nei documenti ufficiali mancano i dosaggi oltre a riscontrare la mancata di sezione dello stomaco il dottor procaccianti a palermo rileva la vescica intatta e colma di urina quindi su che urine esattamente hanno fatto le analisi in spagna le hanno fatte queste analisi stranamente non viene fatta l'analisi tossicologica della matrice capillare la quale vista la lunghezza dei capelli del defunto avrebbe potuto stabilire con certezza da quanto tempo mario non facesse più uso di nessuna sostanza questa analisi condotta a palermo conferma che da almeno 12 mesi mario non faceva più uso di nessuna sostanza le foto allegate al reperto autoptico spagnolo sono solo 9 e non riprendono mai il retro del torso le gambe il collo del defunto senza foulard per di più le foto delle braccia sono in bianco e nero a guardar bene i fatti sembra che le autorità spagnole si siano piegate all'ipotesi del suicidio ma passiamo ora all'autopsia di palermo la procura della repubblica di palermo affida l'esecuzione dell'autopsia sui resti del povero mario al professor paolo procaccianti direttore del dipartimento di medicina legale dell'università di palermo la salma di mario biondo viene sottoposta ad autopsia presso la sala settoria del cimitero di palermo il 23 dicembre del 2013 appena tirato fuori dalla bara il cadavere viene fotografato il più accuratamente possibile già dalle fotocolori si possono notare sulla schiena di mario delle evidenti ipostasi che indicherebbero come il giovane dopo essere espirato si è rimasto a lungo seduto o meglio semisdraiato prima di venire appeso alla libreria poco dopo ecco che scopriamo che lo stomaco in realtà risulta intatto non è stato aperto come dichiarato falsamente da abenza rojo il fatto che siano stati trovati degli avanzi di cibo nello stomaco sposta indietro la presumibile ora del decesso di marco arrivando a ipotizzare che essa possa essere accaduta addirittura verso la mezzanotte il professor procaccianti esegue i test tossicologici su sangue e urine confermando i risultati avuti a madrid dato che inspiegabilmente l'autopsia avviene nella sala settoria del cimitero di palermo alcuni esami che sarebbero stati fondamentali come ad esempio un rx del cranio un attacco dal body non vengono fatti il professor procaccianti comunque compie quelle manovre che in spagna non erano state eseguite come ad esempio la rimozione degli organi principali dalla cavità addominale apre e fotografa la scatola cranica del corpo che rivela sul lato sinistro una vistosa macchia scura dovuta molto probabilmente ad un colpo ricevuto al cranio di mario prima di morire tutto quello che vi ho detto in questo momento dovrebbe mettere in dubbio quanto riportato dalla documentazione proveniente dalla spagna ma il dottor procaccianti pur sollevando generici dubbi sul lavoro svolto dal suo collega ne conferma i risultati dicendo che non sarebbero emersi nuovi elementi tali da poter confutare l'ipotesi suicidiaria a favore di quella omicidiaria il procaccianti non fa alcuna menzione delle ipostasi sui fianchi e sulla schiena non evidenzia esplicitamente di aver trovato la vescica di mario integra e colma non facendo a quello che appare come un vasto ematoma nella zona occipitale sinistra del cranio non venne neanche messo in dubbio il presunto orario della morte del giovane per cui in definitiva nonostante qualcosa in più che in spagna si fosse fatto che questo qualcosa già di per sé fosse già sufficiente a rigor di logica a confutare un'ipotesi omicidiaria il professor procaccianti tralascia di menzionarlo e di evidenziarlo e conferma placidamente quanto affermato dal suo collega spagnolo in merito all'autopsia svolta a Palermo è sicuramente l'abbondanza di fotografie fatte al corpo di Mario ed è proprio grazie a quelle fotografie che i periti di parte della famiglia Biondo ossia il dottor Milone e Iuvara sono riusciti a notare un particolare molto interessante passato inosservato anch'esso dall'analisi del professor procaccianti in diverse fotografie del collo di Mario si riesce a distinguere chiaramente quello che appare come un secondo solco un secondo cingolo oltre a quello più evidente del fular è ragionevole dunque affermare che questo secondo segno sia stato lasciato da chi ha strangolato materialmente Mario però c'è un problema il cadavere ormai è in stato di decomposizione e non è possibile avere una risposta certa anche perché si sarebbero dovuti svolgere a Madrid tutta la serie di verifiche e riscontri che non sono stati svolti e ahimè queste verifiche questi riscontri è possibile svolgerli in Italia davvero in minima parte i periti di parte quindi i dottori Cosimano Yuvara e Milone dimostreranno che è assolutamente impossibile sulla base delle evidenze scientifiche poter pensare seriamente che Mario Biondo si sia suicidato né per un improbabile gioco né tantomeno per un assurdo quanto impossibile incidente il dottor Milone prima il dottor Yuvara poi evidenziano nelle loro relazioni tutte le incongruenze le mancanze emerse nella comparazione del materiale medico legale spagnolo e dalla relazione del professor Procaccianti giungo una conclusione comune che a parer loro appare credibile anzi è probabile che la morte di Mario sia dovuta ad un'azione omicidiaria da parte di terzi entrambi segnalano la mancata eseguzione di esami ormai irripetibili come ad esempio quello tossicologico dei succhi gastrici e la mancata visione di reperti istologici di alcune aree analizzate dall'autopsia palermitana finalmente gli avvocati dei Biondo preparano un'istanza di ricusazione dell'intera relazione autoptica del Procaccianti perché oggettivamente è colma di anomalie il povero Mario è stato tramortito e aggredito da persone terze prima pare l'abbiano strangolato con un cavo della corrente e poi ne avrebbero grottescamente simulato il suicidio appendendolo alla libreria con un foulard Mario probabilmente è stato strangolato mentre era seduto probabilmente sul letto poi è stato lasciato lì per un bel po' di tempo tanto da indurre rigor mortis probabilmente quel tempo è servito agli assassini per ripulire la scena del crimine e appendere Mario alla libreria tutte le perizie a questo punto vengono depositate presso gli uffici della procura della Repubblica di Palermo che alla fine della sospensione estiva ossia a settembre 2016 dovrà decidere cosa fare di questa inchiesta ovvero stabilire se chiudere le indagini preliminari contro persone ignote e aprire un procedimento contro persone note quindi scrivere qualcuno sul registro degli indagati e costringere la magistratura spagnola a distruire un'indagine comune oppure c'è un'altra possibilità stabilire che l'inchiesta si debba archiviare per le difficoltà a portare avanti le indagini da Palermo e fino a qui ok ma il movente dov'è? analizziamo i fatti cominciamo col dire che la vita dei biondo era tutto fuorché idilliaca e poi arriva un elemento a mio parere molto importante la gelosia di Mario la sua gelosia lo porta a cercare la prova di veri o presunti tradimenti della moglie nei dispositivi elettronici che lei le aveva regalato Mario cerca ricerca approfondisce e molto probabilmente si imbatte in qualcosa che non doveva sapere magari quella scoperta l'ha indignato forse ha riscontrato un eventuale coinvolgimento di qualche tipo da parte di sua moglie tanto da indurlo magari a fare una sceneggiata davanti alle persone sbagliate o peggio ancora da minacciare di divulgare la cosa se non avessero smesso e fatto ciò che voleva lui arriviamo al 18 novembre del 2020 quando il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Roberto Riggio accoglie con apposita ordinanza l'opposizione della famiglia biondo all'archiviazione del caso disponendo di altri sei mesi di indagini si riparte quindi da qui da questa decisione che potrebbe ribaltare gli orizzonti di un giallo ancora avvolto da tante ombre e troppi misteri mai chiariti questo è un caso che sembrava essersi avviato verso la chiusura come suicidio eppure oramai la pista del gesto estremo si è sgretolata ma quindi chi ha ucciso Mario Biondo? ancora non si sa le indagini sono ancora in corso quindi ancora oggi il caso di Mario Biondo resta un mistero in cuor mio però spero davvero che questo mistero venga svelato per dare giustizia a Mario perché è evidente che non si sia suicidato e quindi bisogna trovare un colpevole detto questo ragazzi e ragazzi io ho finito di parlare in questo video spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento se vi va ovviamente lasciatemi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate di questo caso noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.